disegniamo ora un triangolo rettangolo noti due cateti a sinistra con la costruzione tradizionale quindi col compasso a destra utilizzando le funzioni di AutoCAD facciamo uno zoom quindi a sinistra simuliamo quindi la costruzione secondo il metodo tradizionale di righe compasso cancelliamo destra a sinistra gli elementi che sono già inseriti nel disegno e cominciamo utilizziamo quindi le funzioni di costruzione per tracciare una perpendicolare al punto A perpendicolare al segmento AB quindi tracciare una perpendicolare a un estremo di un segmento utilizziamo le funzioni di cerchio cerchio sull'estremo A raggio 30 utilizziamo sempre la funzione di cerchio all'intersezione che abbiamo trovato di raggio 30 utilizziamo ancora la funzione di cerchio con invio all'intersezione sempre di raggio 30 e a questo punto tracciamo un altro cerchio nell'ultima intersezione trovata sempre di raggio 30 il punto l'ultima intersezione che abbiamo tracciato per questa intersezione passerà il segmento perpendicolare all'estremo A quindi inseriamo una linea del punto A alla intersezione dell'ultima costruzione selezioniamo la linea e la portiamo nel legge segmento ora noi sappiamo che l'altezza cioè il lato uno dei cateti del triangolo è 90 quindi inseriamo sempre una circonferenza su vertice A e il raggio 90 prolunghiamo quindi estendi sul questo cerchio invio estendiamo la linea ovviamente per chiudere tracciamo quindi il terzo lato che sarà CB dei due estremi che abbiamo già inserito tracciato e selezioniamo l'ipotenusa portandola nel layer segmenti per pulire la costruzione utilizziamo sempre la funzione cerchio e poi taglia sul cerchio tagliamo le parti e così via con le altre linee costruzione costruzione costruzione